E' accaduto ancora un'altra aggressione al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Anna. Ieri sera due agenti della vigilanza sono stati insultati e picchiati, rimediando una prognosi di cinque giorni ciascuno, da un uomo arrivato nel reparto di emergenza e urgenza di Sanfermo. Da quanto si apprende, il paziente, appena arrivato in triage, avrebbe iniziato a spogliarsi davanti alle altre persone in attesa, importunandole. Gli agenti sono quindi intervenuti per gestire la situazione, accompagnandolo in un'altra sala visite in attesa di un consulto medico. Ma proprio in quel momento l'uomo avrebbe iniziato ad agitarsi e a insultare e colpire gli addetti alla vigilanza, che sono comunque riusciti a bloccarlo in pronto soccorso e poi è arrivata anche la polizia. Vogliamo ancora una volta esprimere la nostra solidarietà ai colleghi vittime dell'ennesima aggressione in pronto soccorso, ha detto il segretario generale della UIL Funzione Pubblica dell'Aerobrianza Massimo Coppia. Abbiamo già da tempo chiesto l'attivazione del tavolo della sicurezza interna alla direzione generale. Crediamo, aggiunge, sia arrivato il momento che la SS Tilariana si costituisca parte civile contro questi esecrabili gesti ai danni dei nostri lavoratori.